musica mi è arrivato il primo dei giapponesi con la naghinata e mi massacrava io vado verso C youtube è testimone e iniziato la partita dura 20 minuti la partita no sono in 2 su C sono 2 su D anche qua io prendo quell'altro oh sono circondato ci sono io andati per guardare qui dove scappa questo? ok me l'ho ucciso ti sto venendo a rianimare se ci riesco oh no stanno 2 oddio non nessuno mi ha visto ti sto rianimando non lo faccio rianimare bella grande 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 mamma mia qui sto mi hai salvato la vita proprio ci comandi però eh sono circondato ne due sono giusto bene da aiutare eh prima arriva muovete dragon qui sul C ce n'è uno aspetta vedo se ti riesco a rianimare ah ma l'ho ucciso arriviamo arriviamo l'ho ucciso l'ho ucciso non si ucciso ragazzi attenzione bot eh vai ucciso grande 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 questo è morto difendi il corpo di questo dark io vado su A eh c'è uno anche se c'ho meta vita no merda sono morto dove sei? mi ha buttato su mentre salvo sulla scala dietro di voi oh arriva eh mi ha buttato su mi sa che due a poco vada a riprenderci ragazzi c'è uno su C nooo osmigration è crashato con uno di loro lo stavo killando male infatti uno di loro è no sto morendo sono due su C due su C ragazzi riprendiamoci però se fanno davvero così che la l'host è uno di noi eh vabbè sono morto ricco dov'è su A? eh noi stiamo su C eh no usano tutti gli stessi 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 cosi si ma una squadra Fudo Rochi no mi ha fatto sono davanti io di arrivando su C no sulla parte su A su A eh no uno li ho buttato a terra ma si sta rianimando aspetta matte forse adesso ti aiuto no impedisci la rinanimazione impedisci la rinanimazione su A? su B su B su B su B ok e io sto arrivando su A respuno ho ucciso quello su A io ok ho impedito la rianimazione bella bella grande non farli rianimare via con B e no 2 contro 1 no no vieni indietro se riesci viene un po' verso indietro e vado a prender C intanto ok ne ho ucciso uno ottimo prendo C no 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 stamina ecco sono morto ti salvo ti salvo aspetta un secondo ok guarda uno su A si ma eh eh aspetta grande su B su C grandissimo ah l'ho tirato su c'è uno su C anch'io vado su C oh perchè mi ha morto? guarda quali c'era a me no guarda come sta adesso arriva brava ho fatto in modo di conquistar vive che ragazzi mi proteggete sto arrivando su C vai dietro 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 dark dietro c'ha poca vita oddio 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 ok mi ha fatto arrivo arrivo ok un gol no ragazzi ce ne ho due su C penso vado su A no no bridge ti salvo ti salvo ti salvo dammi in due ho ucciso quello lì su ok uno è morto su C l'altro bella bella Simo eh fammi riprendere vita eh c'è un altro eh anche a me parte sopra di te provo ad andare dietro le niene sto riprendo vita eh anche io devo riprendere vita vieni qui 3 2 1 vado no ce ne son troppi via attenzione io sono su D ho cercato di farmi uno ok uno sta salendo su A eh ok io sto inseguendo uno merda ma sto tovendo vita ok si l'ho ucciso no 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 ragazzi ragazzi è riuscita dietro di me niente oh basta il cazzo di bot che palle sti soldatini di merda ho ripreso C ragazzi ok Simo lo tiro dietro eh bella 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 raga oh ci sta andando azzetto tra noi ahia vai voi andate li proteggo io vi 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 prendo vita è un bot è un bot questo ok è su A andate 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 e qui non passerà nessuno mi ha detto qua io e io uccido un po' i bot quindi da questo m'ha buttato giù ragazzi qua su A è pro attento Matt no sono in due su A sono pro son tre son tre son in tre son in tre tutti su A no non 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 andate su A non son andate son in tre fatemi giù da B che tanto noi abbiamo due punti più di loro riprendete C C C C C C C ragazzi state anche a rianimare ragazzi non lasciateli lì su A voglio accamparare ok li lascio là basta che difendiamo B e C io me ne prendo uno io sono su C con uno ma l'ho ucciso mai l'ho ucciso ok ce n'è ce n'è uno qua c'è uno ce l'ho io uno ce l'ho io prendo la posizione su C uno l'ho ucciso Decapitation vai in dan va no non lo so vado a prendere quello su A ucciso l'altro ok su C ragazzi su C sta pulendo C cazzo tocca mantenerli punti eh adesso è il bot ucciso arrivo arrivo è fatto no no perché io l'ho ucciso è su C no ragazzi mi sto ammazzà eh la bella Prince eh sta arrivato un altro su C attento Prince da dietro a me se vengono io ti proteggo la nuova ok l'abbiamo chiuso ok ce ne arriva un altro eh avete vinto eh neanche a morire tutti oh sta scappando no io non ho più stamina io bollo tanto lo prendo oh vaffanculo ahah bella bella sei trovato a me davanti ahah grandissimi qual potere di mettere una bandiera curativa ah si è vero eh si ho visto tu si col 4 puoi mettere la bandiera curativa io le bombe bella bella partita devastate proprio ho fatto il quale è il nuovo canal in descrizione noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao Rai che non lo salva Grazie a tutti.